9 maggio 2019 41 anni dopo quel famigerato 9 maggio 1978 giorno in cui Aldo Moro viene trovato il corpo di Aldo Moro viene trovato in via Caetani Roma una stradina secondaria ma molto simbolica a metà strada tra via delle botteghe oscure sede del partito comunista e piazza del Gesù la sede della democrazia cristiana. Il corpo di Aldo Moro viene trovato in una Renault 4 rossa e segna la fine di un'agonia durata 55 giorni durante i quali lo statista democristiano è detenuto nella prigione del popolo delle Brigate Rosse. Ne parliamo oggi con il generale Antonio Cornacchia un testimone importantissimo di quegli anni all'epoca dei fatti comandante della sezione della prima sezione del nucleo investigativo oggi reparto operativo dell'arma dei carabinieri. Generale Cornacchia torniamo indietro 9 maggio 1978 quella mattina chi la chiama e a che ora? Era lunedì esattamente mi trovavo unitamente all'autista in Viale Trastevere poco qualche centinaia di metri dalla sede del ministero dell'istruzione e via radio fu chiamata Irone 1 era il mio nome in codice come le comandante del reparto operativo dei carabinieri dalla centrale operativa esattamente il collega il colonnello De Donno che mi avvertiva di portarmi immediatamente in via Caetane per una autovettura sospetta. Dandomi anche i primi date della relativa targa Roma N57 individuai quella macchina, localizzai, diede ad all'esterno un'occhiata, l'abitacolo era libero, non c'era nessun oggetto dentro, soltanto che nel bagaglio posteriore c'era un plate che copriva un qualche cosa di voluminoso, ovviamente non potevo sapere che cosa ci fosse e diedi notizia di questa autovettura al collega De Donno, completai anche il numero della targa 57686 e il collega dice non toccarla perché stanno per raggiungere gli artificieri e io approfittai che proprio in quella sede di fronte alla dove era parcheggiata questa autovettura c'era e c'è tuttora una distrografia del pubblico dello Stato, vide delle persone, c'erano tre funzionari, due signore e un signore, chiese notizie su quella macchina e riuscì attraverso la loro dichiarazione stabilire addirittura l'ora esatta in cui quell'autovettura fu parcheggiata diverse ore prima, esattamente verso le 8-7, 8-5-6 del mattino, ci troviamo a 1.30 perché poi arriva lì e dopo 5-6 minuti dalla telefonata arriva sul posto. Dopodiché visto che gli artificieri non arrivavano io feci uso di un rudimentale pietre di porco di cui mi ero dotato da tempo e quindi riuscì ad aprire disattendente alla raccomandazione del collega. Certo se mi fosse trovato a Palermo senza offendere i palermitani non l'avrei fatto, per ovvi motivi. Apri questo portabagagli, sollevai il pleide e purtroppo potete constatare il corpo esame dell'onorevole Moro, ciò che mi colpì particolarmente, soprattutto a vista umano, anche perché conoscevo molto bene personalmente l'onorevole Moro, presidente del Consiglio Nazionale della Democrosi Cristiana. Allora, ecco, vederlo con metà della lingua fuori, stretta tra i denti, con segno di sangue, mi colpì in modo particolare. Diedi notizia di questo rinvenimento e dopo 5 minuti arriva, i primi che arrivarono fu la giornalista Maffai con l'onorevole Paietta, al quale io mi presentai e lui non volle vedere Moro, diceva voglio ricordare di quando era vivo. Invece la Maffai volle vederlo. Io alzai ancora una volta questo pleide, lei si soffermò e ti ha fatto l'indomano e poi scrisse anche un articolo che ben ricordo. Dopo 5 minuti e 6 minuti che loro andarono via, giunse il ministro degli interni, Francesco Cossiga, mi chiese se effettivamente si trattasse di Moro, io disse di sì. Ebbene, dopo aver fatto un segno della croce, vi svegliò qualche parola e dopo qualche minuto di attesa e mi disse, Cornacchia sai dove andrò adesso? Dico no signor ministro, vado a darvi la remissione perché abbiamo fallito, cosa che lui fece. Infatti i partiti di maggioranza optarono tutti, fatta eccezione del Partito Socialista, per la fermezza, quindi nessuna trattativa con con le Brigate Rosse. Eppure Aldo Moro in primis, attraverso le sue lettere e la famiglia Moro volevano ovviamente che si salvasse. E un ruolo fondamentale l'ha avuto il Papa di allora Paolo VI e il Vaticano. Che cosa accade qualche giorno prima infatti proprio del ritrovamento del corpo di Aldo Moro? Ecco, io ebbe modo di venire a conoscenza l'iniziativa e quello che effettivamente potete realizzare fino all'ultimo minuto dal Papa e dai suoi collaboratori per far sì che Moro venisse liberato. Ebbene con Don Cessore Corione e anche con padre Enrico Zucca, un padre minore francescano. Lui era di Milano, stava nel convento di Sant'Angelo a Via Moscova a Milano e lui era un personaggio famoso, aveva fatto parlare molto di sé per aver nel 1946 nascosto le ossa di Mussolini in quel convento, tant'è che poi fu arrestato e si fece a 42 giorni di reclusione. Bene, lui, tutti e tre ci siamo portati su iniziativa, ripeto Don Cessore Corione, a Castel Gandolfo dove già c'era il Papa, quella è la sede estiva pontificio. Io non vedi il Papa ma conobbi il suo segretario particolare, Monsignor Pasquale Macchi, al quale fui presentato da Monsignore Corione, dice questo è il colonnello Cornacchia, assistente e ressanto di Moro e quindi ebbi modo di vedere un contenuto di oltre 10 miliardi di lire, una somma che ovviamente non contai ma io ho scritto anche dei libri, ho messo un punto interrogativo, mi fido su quelle che mi disse il Monsignore Macchi. Ebbene dopo aver visto questa bella cifra di quattrini fu sollecitato da una telefonata a Monsignor Macchi alla quale rispose allora c'era il telefono fisso, ovviamente non c'era il cellulare e dopo che rientrò, dopo qualche minuto neanche, piuttosto pallido, piuttosto preso non dico da risentimento essendo un sacerdote ma sbigottito forse dal contenuto di quella telefonata che io posso arguire, posso pensare, posso intuire ma è che lui si limitò a dire, rivolto sempre a Monsignore Don Cesaro Corrione, dice Monsignore ci è stato precluso di consegnare, di versare il riscatto per la liberazione di Moro. Però io poi ovviamente sono riuscito a individuare non chi fece la telefonata ma da dove pervenne, veniva dal Vaticano, il Vaticano e qui bisogna distinguere il Vaticano dalla Chiesa ovviamente. Non vorrei che venisse confuso questo binomio che potrebbe avere i suoi sviluppi e speriamo che col tempo si addivenga a qualche cosa. È ovvio che tra me e me dico ecco, il Vaticano che proibisce al proprio Papa, al suo Papa, una cosa che lui teneva dal primo giorno che hanno sequestrato, che era lui molto legato a Moro, aveva trovato con molta difficoltà, c'era riuscito questo collegamento con le Brigate Rosse, c'era anche qualche personaggio che io conoscevo, che faceva da tramite, da mediatore e che conosceva molto bene. Ecco perché io faccio queste affermazioni. Lei infatti se l'aspettava questa reazione di fermezza da parte delle istituzioni che appunto possiamo apprendere non solo istituzioni, diciamo, laiche, ma anche appunto il Vaticano come appunto dichiarato. Cioè perché effettivamente hanno optato per la fermezza, non si sono voluti muovere? Mi sono dato una risposta, ma nonostante che questa risposta avesse potuto in certo qual modo soddisfarmi. Io non mi rendo conto che un partito come la Democrazia Cristiana, i rappresentanti di questo contesto politico, piuttosto disponibile alla moderazione, alla moderazione, alla mediazione, alla disponibilità, ovviamente, dove il sentimento umano io penso che non possa che avere il sopravvento e il privilegio, ebbe queste connotazioni siano venuto meno in quel contesto storico, che non ha affatto sì che sollecitasse questi signori rappresentanti della Democrazia Cristiana, che le Brigate Rossi chiamavano il Partito Stato, ebbene, ecco, qui non mi va giù. Ebbene, ecco, qui non mi va giù. Lei prima ha citato ovviamente come una delle prime persone arrivate a corse in via Caetani il ministro Cossiga. Ecco, il Viminale, quindi il ministero ovviamente dell'interno, quali elementi aveva? Avrebbe potuto fermare, salvare il salvabile? Avrebbe potuto fare effettivamente qualcosa? Cossiga, appunto, lei stesso dice, si dimette. Però poi, ecco, comunque è un personaggio che la storia italiana ricorda, è diventato poi successivamente anche presidente della Repubblica, quindi insomma, all'epoca che cosa avrebbe potuto fare che non ha fatto da giustificare poi le sue dimissioni? Quel mattino del 16 agosto, del 16 marzo, alle 11.05 circa, Andriotta, ancora prima che le Brigate rosse rivendicassero il sequestro Moro, diede ai suoi riuniti d'urgenza del Consiglio dei Ministri la raccomandazione di agire in un contesto particolare politico, di assumere atteggiamenti tali di essere adeguati a quelle che le circostanze suggeriscono. Parole chiarissime per dire, nessuna trattativa con chi ha sequestrato, nessuno si muova con chi ha sequestrato Moro. Fece seguito il ministro degli interni. Sembra che l'abbia imparato a memoria questo io. Nel pomeriggio, nell'immediato pomeriggio del 16 marzo, dal canto suo, sempre finalizzato a far sì che ci si muovesse per liberare Moro, al ministero degli interni, al Viminale, furono istituiti tre comitati. Uno operativo, qualche volta ho fatto parte pure io, due o tre volte poi non più. Un altro dell'intelligence, di fatto è chiamato I, facevano parte quelli dei servizi segreti. E poi c'era un terzo, che era il più importante e più determinante, quelli degli esperti. Erano due o tre persone, compreso il ministro. Ebbene, questa attività del ministero, quasi nulla, quello del primo e secondo comitato, quello terzo, ha gestito in pieno, a modo loro, secondo le direttive di Andreotti e quindi di Cossiga. Io dico e quindi di Cossiga, perché Cossiga, ancorché il ministro degli interni, per quello che abbia stato possibile costruire di persona, avrebbe voluto ma non poteva. Difatti, ha una domanda esplicita riportata su un OP, di Pecorelli, rivolta al ministro. Lei che sapeva tutto e poteva, per quale motivo? ha alzato le mani, non ha fatto nulla. Il ministro è stato anche molto chiaro, ha risposto, ha dato una risposta. Non se l'è fatta dire due volte. Io non potevo perché dovevo guardare in alto. In questa mappa, praticamente, di strade, un'altra strada importante è via Gradoli, covo delle Brigate Rosse, un appartamento appartenente alla SISD. Ecco, anche lì, che cosa, la sua testimonianza, quali sono state le indagini, come ci siete arrivati? Gradoli si potrebbe scrivere dei volumi e a mio avviso avrebbe senz'altro preso piede la dietrologia. Non sta a me spiegare il significato, sarebbe l'antistoria. Tutto ciò che è necessario del passato distruggere, affidiamoci alla dietrologia. Hanno voluto accusare le forze dell'ordine che noi siamo andati lì a bussare prima del 18 aprile, giorno in cui noi siamo stati capaci di entrare nel covo. Siamo arrivati perché il 18 aprile io ricevete una telefonata dall'ingegnere capo pecorelle di Avellino. Dice Antonio, siamo stati chiamati perché c'era uno scolo di acqua, infiltrazione, a via Gradoli 96. E lì mi hanno aperto. Ma qui c'è tutto materiale di visita da poliziotto, di carabinieri, palette, macchine da scrivere, è un copo questo. Mi avvertì. Io chiamai il dottore Inferisi, Luciano Inferisi, che era il sostituto di turno e che si interessava del caso Moro. Avvertì anche la Dicos Domenico Spinella della Dicos e ci vedemmo tutti quanti a via Gradoli. E c'era anche il collega Paris che poi fu ucciso. Mentre ispezionavamo tutto quel materiale, io fui chiamato per l'autista, dice Comandante, insiste la centrale operativa, il colonnello di Donno, e andrà a rispondere a portarsi immediatamente al lago della Duchessa perché c'è il corpo di Moro. Dicono che c'è il corpo di Moro. in quanto è uscito il comunicato numero 7 delle Brigate Rosse dove dice che se volete trovare il corpo di Moro. e nei fondali. Io dissenti da questo invito, che poi doveva essere anche un ordine che mi dava di andare, perché ero consapevole che quel lago per nove mesi all'anno è ghiacciato. Stavo nel mese di aprile, anzi marzo-aprile, sì, 18 aprile, come si può, come potevano mettere nei fondali... A me interessava ispezionare il materiale, per trovare degli indizi, degli elementi che agevolassero le indagini, per localizzare dove Moro si trovasse, perché navigavamo senza faro, senza bussola, a occhigliosi, al naso. Ebbene, lì per lì, per quanto ci è stato detto, nonostante i chiari segni di diversità dai precedenti, come era composto questo comunicato, si credette valido, invece non assolutamente. Ebbene, quello che, poi che cosa serviva? Qualcuno, quel comunicato sarebbe potuto servire per vedere, constatare la reazione degli italiani alla notizia che Moro era morto. qualcun altro no, per far sì che le forze dell'Oltre si trasferissero al lago della Duchessa in modo che le Brigate Rosso potessero agire con l'Oltre. quello che poi ci deviò le indagini è che un illustre politico, che ha fatto poi la sua carriera, ha fatto la sua carriera da quel momento in poi, dal 2 aprile in poi, che che se ne dica? Di chi parliamo? Di chi parliamo? Una sospanza, no? Giusto. ci fa pervenire l'esito di una salute spiritica a Zappolina di Bologna, in un pomeriggio con dei bambini, con le universitarie di Bologna, con le consorte, e poiché la tempo piovoso non consentiva di farsi una scampagnata. Dice, vogliamo sollecitare gli spiriti di Lapira e di Dosturzo? Sì, sì, facciamolo. Nessuno di questi era pratico, aveva esperienza. Io non l'avrei potuto fare, non c'ho esperienza. Beh, riuscirono a far parlare Lapira. Si dichiarò disponibile. Il quale avrebbe dato una descrizione dettagliata, facendo muovere un piattino, Gradoli, Strada Provinciale, Viterbese, eccetera, eccetera. Scandinato, in campagna... Vabbè. Il politico di cui parliamo è pronto. E allora dice, lei adesso dice, ma scusa in generale, lei perché se la prende tanto? Che io sto, boh, eh? Eh? Sì, me la prende tanto. Perché quell'esito che la balla, io l'ho messo anche sul libro. L'ho messo anche sul libro. Eh? E io sono più con voi. E non solo io. Eh? Non solo io. Ebbene. Ha fatto sì che noi fossimo distorti, almeno per quattro, cinque giorni, dalle nostre intagini. Ci hanno costretto, quell'esito, ci hanno costretto a mettere in subbuglia, a subquadro, la comunità di Gradoli. E io conosco perché ho comandato i carabinieri di Viterbo. Ovviamente l'esito è negativo. Che cosa è servito? Ad aprire gli occhi e le orecchie a Morette, che abitava in quel covo, interno 11 del 96, civico 96. E alla sua amica, allora Balzarano. Per cui loro, questi due signori, allertati da questa notizia, hanno potuto gestire al loro modo l'ostaggio che avevano il povero Onorevole Moro. E qui ci sarebbe un po' da ridire sul comportamento di chi ha gestito questo aspetto spiritico, di Romano Prodi. Perché non avvertire? Perché avvertire la segreteria Zaccagnini per poi avvertire il ministro degli interni? E non avvertire immediatamente la polizia, i carabinieri, quelle che noi stiamo a sbattere la testa al muro? Perché non avvertire la magistratura? Lei a queste domande si è mai dato una risposta? Si è dato una risposta a queste domande? Mi sono dato una risposta. Perché quella seduta non c'è mai stata. E che quella notizia non è arrivata dal piattino che si muoveva o portacenere che sia. Bensì da chi? E non l'ho detto io. Questo perché l'ho letto. E cosa? Gli autonomi bolognesi. Autonomi bolognesi. Perché qui si voleva nascondere il vero nome di chi aveva detto questa notizia. Noi oggi stiamo pagando le conseguenze di quella fascineria ma consapevole di questa fermezza. da allora, da quando ne è sequestrato Moro, a noi piano piano ci hanno instillato. eh? O ci hanno fatto iniezione di veleno. Oggi noi, la società italiana, è avvelenata. Guardiamo, basta guardare, aprire qualsiasi canale della televisione che parla dell'attività di oggi. Noi siamo un paese disorientato. Chi aveva capito l'antifona? Chi aveva capito tutto col suo progetto democratico? Era uno che era molto lontano da Andreota, da tutti gli altri. Gli altri stavano lì. facevano le varie correnti, no? Poi ogni tanto avevano chiudere le finestre perché sennò faceva troppo freddo. O troppo caldo, non lo so. E' una battuta la mia. Ma deve essere consentito questo sfogo. Io l'ho vissuto. Un giorno su, un giorno c'era un funerale. Si usciva di casa la mattina ma non si era convinto di rientrare la sera. A pensare che poi i politici, anziché agevolare il nostro compito, ci mettevano il famoso paletto fra le ruote o qualcosa del genere? Di misteri. In Italia ce ne sono stati tanti. Il generale ne potrebbe raccontare ancora di più. Però per oggi ci fermiamo qui. Da Irpinia News, dal generale Antonio Cornacchia, è tutto. Grazie e in bocca al lupo per il vostro lavoro. Arrivederci.